Allora, quando parliamo di cioccolata come prodotto d'eccellenza pensiamo a tanti luoghi della nostra bella Italia. Pensiamo a Perugia, pensiamo a Modica, pensiamo a Torino e ne ho citati solo tre per coprire nord, centro e sud. Allora, intanto diciamo qual è la qualità e l'elemento di questa qualità che vi contraddistingue? Perugia è ormai dal 1907 un'azienda che è presente sul mercato nazionale, leader subito da qualche anno dopo. Luisa Spagnoli già nel 1922 aveva creato i baci. L'elemento che ci contraddistingue di più forse è proprio la ricetta unica del cioccolato fondente Perugia che si chiama Luisa, che è quello con cui produciamo baci e che porta proprio il nome della fondatrice dell'azienda. Sicché noi andiamo fieri di questo. Molto spesso le coperture dei nostri cioccolatini sono fatte con questo speciale cioccolato che si chiama appunto Luisa. Ecco, e a proposito di questo mi viene in mente quindi di disposare la qualità della cioccolata con un altro richiamo assoluto di italianità nel mondo che è la moda quando si parla di un cioccolatino ben vestito. Sì, è vero, lì è stato molto bello, è stata un'occasione per ricordare Luisa. Lei oltre che la creatrice di Perugina è stata anche la creatrice di Luisa Spagnoli, quindi un'azienda di moda, che è anche questa sede a Perugia e in cui c'è stata tra l'altro una fiction di due puntate su Rai. Proprio della Miraglia Rai. Esattamente, soltanto questo inverno che è stato molto bello, molto seguito. Per noi che lavoriamo per Perugina è stato anche molto emozionante, devo dire, perché sono tutti i momenti della creazione della società, l'incontro con Francesco Buitoni e nonché anche il momento in cui creava i prodotti principali che noi conosciamo bene, tipo Baci, lo stesso cioccolatino Liu che porta il suo nome, piuttosto che la caramella rossana. Sì che ci è venuto in mente di contattare la sua nipote che dirige l'azienda e con la quale abbiamo deciso di fare questa operazione di co-marketing che ha portato alla realizzazione di confezioni regalo che oltre che al marchio Perugina portano proprio il logo di Luisa Spagnoli e tra l'altro anche il loro disegno grafico classico, quindi il loro graphic design come si dice in inglese, che rappresenta proprio l'immagine classica di Luisa Spagnoli. Esatto, quella che poi va nel mondo. Allora, chiudiamo con invece una cosa interattiva che interessa adulti, ma interessa soprattutto i bambini e dove io personalmente sono stata la scuola del cioccolato. Un vero e proprio working in progress dove il profano diventa protagonista accanto ai maestri cioccolatieri. Bellissimo, c'è qui oggi il nostro maestro. Un posto veramente speciale dove tutti quelli che vengono vi invito tutti a venire perché è un posto unico, si fanno dei corsi veramente molto brevi dove anche uno che non sa fare niente granché di pasticceria come me in giro di due ore riesce a prodursi i propri baci Perugina che è divertentissimo perché poi te li porti a casa e li mangi che sono veramente molto buoni. Ci sono anche tanti bambini perché vengono lì, perché vedono i prodotti, si divertono tra l'altro perché l'interazione con il cioccolato è divertente, quindi assaggiano, mangiano le nocciole, i genitori naturalmente si divertono anche loro. Nonché la fucina di tutte le nostre cose nuove che facciamo, tipo per esempio che abbiamo appena rilanciato le tavolette e tablò che prendevano tra l'altro lo spunto dai colori della piana di Castelluccio che è molto famosa e che in questi giorni è anche alla cronaca per quello che è successo e che noi che siamo di Perugia, perché naturalmente l'azienda ha comunque il cuore a Perugia, abbiamo un sentimento particolare, cercheremo di sostenere tablò e le iniziative che verranno fatte per Castelluccio perché pensiamo che sia molto importante essere presenti anche. Bravo, infatti le invito a chiudere quest'intervista proprio guardando al 2017 con un Natale della solidarietà perché questa è la spinta che vogliamo dare quest'anno per il cuore dell'Umbria ferito dal terremoto. Un messaggio di speranza. Io conosco come sono le persone dell'Umbria, del centro Italia, dell'Umbria, della Toscana e le persone di Norcia che sono state colpite anni fa, si sono ricostruiti tutti da solo e avevano ricostruito con sistemi antisismici, purtroppo hanno avuto la sfortuna di avere un altro sisma molto forte, la speranza è che siano forti un'altra volta e che naturalmente le istituzioni che gli devono stare dietro, gli staranno dietro e le persone che gli vogliono bene pure, noi gli vogliamo bene e faremo la nostra parte.